ciao a tutti e bentornati qui sulla morgrond allora ho finito di tagliare l'erba lì sul campo 20 quella dove abbiamo iniziato la missione quelle finita adesso andiamo subito al negozio perché ci dobbiamo liberare di questo in questa combinazione perché lama anteriore la posteriore non collaborano per meglio dire non mi piace come collaborano perché non mi fanno un'andana unica e sta cosa qua mi fa girare un po le cosiddette scatole allora andiamo via rivenditore andiamo a vendere tutto e così che mi libero e compriamo qualcos'altro vediamo se nel frattempo tanto per oggi e domani non mi serve o per meglio dire per aprile e maggio giugno si non mi serve magari andremo a comprare o andremo a vedere cosa c'è in offerta e andremo a comprare qualcosa in offerta nel frattempo mi sono spostato cosa ci fa questo qua vediamo un po cosa è venuto a fare c'è non il trattore ma più il quello lì l'autista non può raggiungere campo 20 per qua ma cosa è venuto a fare il pieno va bene perché non raggiunge campo 20 voi strano dovrebbe funzionare vediamo se funziona qua perché non funziona non vorrei che ci sia un horror perché no mi sembra anche tanto stranissimo allora perché non funziona vediamo se ci arrivi tu da qui o altrimenti mi tocca andare a controllare se il percorso va bene o meno perché adesso mi viene in dubbio ma mi sembra che prima funzionasse allora dubbio dubbio grosso allora facciamo una cosa andiamo sul 20 per meglio dire andiamo sul sul coso del 20 vediamo un po come è il percorso perché non funziona e poi vediamo aspetta che provo di nuovo da qui vediamo un po non ci arriva è strano 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 allora proviamo da qui ci dovrebbe arrivare no ci dovremmo arrivare perché questo a fianco è un ragazzi sono salito sulla macchina anche questa è una bella cavolata allora questo a fianco è mio il 20 dovrebbe essere questo no fammi vedere no non è questo il 20 è qua sopra ok allora devo andare un po più dritto e poi vedere allora andiamo sul 20 vediamo un po cosa succede lì mi sembra tanto strano vediamo se parte da qui allora il 20 carica il 20 scarica funziona il 20 ritira non funziona perché significa secondo me che ci sarà un piccolo errore nei percorsi allora proviamo dall'interno perché dall'esterno non si vede niente è tutto uno sbattere contro gli alberi e andare fuori strada non ne vale la pena allora il campo 20 eccolo qui è il coso per caricare il digestato è qui no che cacchio faccio prima allora andiamo a vedere il percorso ah sì ok non ci arriva perché anche qui c'è lo stesso problema allora facciamolo strano ma facciamolo bene aspetta aspetta direi che ne metto un altro qui no ma adesso facciamo che a sto punto facciamo un po di collegamenti così che nel momento in cui dovremmo aver bisogno anche dagli altri campi qui ci arriveremo comunque direi che va bene anche da qui ok oh 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 no no lo faccio direttamente secondario così che dopo mi tocca solo andare a modificare l'altro che avevo fatto così che almeno questi sono secondari e non non tocco vediamo un po cosa succede adesso adesso dovremo arrivare infatti adesso ci arriviamo perfetto lui va qui si va a ricaricare lì sul campo 20 e potevo farlo anche da qua oh no qua veniva troppo ma no va bene così perfetto allora lui funziona adesso poi svolto il campo 4 il percorso è attivo qua è attivo benissimo ok allora lui è a posto questo ancora va fa altro un paio di viaggi tanto di insilato però adesso ne abbiamo oh devo mandare la macchina qua con questi qui vabbè per adesso non è importante ma andiamo a vendere sta roba qua perchè tanto non va bene per quello che dobbiamo fare noi non va affatto bene così adesso ce ne liberiamo e nel momento in cui torna a servirmi comprerò qualcosa o per meglio dire speriamo che venga fuori qualcosa di utile nel momento in cui ci serve di nuovo allora ripara vendi 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 e vendi ok il tractore a posto questo è quello che mi serve vediamo se c'è qualcosa in offerta ci avevo guardato prima ma non c'era niente vediamo adesso no nada oh qua anche qua devo attivare la mod quella con più prodotti sì perché qui me ne da solo quattro abbiamo molto ma molto più sconto perché qua abbiamo un 50% con la mod attiva abbiamo solo un massimo un 12% però abbiamo molti più mezzi a disposizione o per meglio dire molti più mezzi in sconto più che a disposizione ok questo è il noleggio quello è il noleggio io direi che questa prima o dopo potrei andarla anche indietro perché per adesso tanto non mi serve andare a pagare dei soldi inutili quindi non ne vale la pena allora tu sei a posto tu qui non hai un parcheggio perché non hai un parcheggio allora segniamo un parcheggio anche a sti rullo qua così questo ci ce lo liberiamo allora qua è il 8 ok questo si va nella speranza che non solo prende adesso subito qui no ma sta andando a fare il giro benissimo che ok allora vediamo un po come siamo messi con mi sono perso ragazzi volevo fare tantissima roba su giro qua ma mi sono perso qua in silato non ce n'è più che significa dobbiamo rifornire subito il mio no oh era l'altro no 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 Ok, allora Qua come siamo messi? Quanto ne abbiamo ancora qui? Un milione Un milione e 600 mila Se abbiamo messi un centinaio qua dentro Sì, 88, va bene Allora lui continua a produrre 90 mila di digestato, ancora ce l'abbiamo O siamo arrivati comunque a 308 mila Il budget sale Sale, sale Benissimo, allora questo Lavaggio, perché così gli diamo una lavata E dopo gli attacchiamo Subito dietro l'imballatrice Così che questo se ne va a lavorare Tu vuoi intanto il lavaggio Io prendo il pick up Eccolo qui Vi vado a riprendere tutte quelle cacchio di cose che sono lì parcheggiate Così li tolgo da mezzo Che mi danno un po' fastidio Nel frattempo l'altro lavoro Ecco qui il mio aiutante con il digestato Ok, poi mi metto dentro così che vedo la strada Perché altrimenti Ragazzi, nella puntata precedente secondo me sono andato tre volte contro un albero Wow Vado contro il trattore Ma porca trota Ma vedete se parta ancora lì Divo che botte che gli ho dato C'è niente da fare ragazzi Qua questa strada è troppo stretta per un trattore O abbiamo bisogno di dire È troppo stretta per me che Sembra che guidi male Se guidassi così con la mia macchina Non sarebbe forse il caso di Buttare via La patente Secondo me sì Niente patente Niente patente Patente Cancellata E vabbè Allora No Mettiamocene sopra un altro Uh Ragazzi mi sono dimenticato di attivare la superpotenza Superforza Dimenticata Vai Super patente Va bene Metto da un lato e cade dall'altro Non va bene così Ma no E ora basta cadere Ok Partiamo via sta roba Scorciatoia Abbiamo tagliato la strada Alla grande Stiamoci di nuovo dentro Adesso diamo un'occhiata pure come si è messi con il campo 4 Perché se quello è finito possiamo anche finire di Consegnare del digestato inutilmente E Adesso Adesso sarebbe qua dove la metto Oh capotamentus Ma se la metto direttamente dentro Aspetta eh No 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 Non voglio metterla dentro Perché altrimenti poi se la devo trasportare Non riesco Mettiamola qui ragazzi Come ho fatto anche con l'altra Così che almeno Nel momento in cui devo trasportarla La prendo qui da Con i pallet Altrimenti dovrei andare a comprare Poi il rimorchio Quello Per spostare la roba Che diventa un casotto Dai scarica Ok Lui a post Ora c'ho quei bidone lì con il Fertilizzante liquido Ma quello Se dovesse accettare una missione Utilizzo quello Così che almeno i miei campi sono a posto Tu te ne vai al tuo parcheggio Che per adesso non mi servi più In questo caso Ho assegnato il parcheggio al rimorchio Lui va al parcheggio del rimorchio Gli do una lavata a questo E poi gli attacco subito dietro L'imballatrice Facciamo le balle del campo 20 E poi andiamo a vedere Se c'è disponibile un'altra bella missione Da fare Così che Lavoriamo il prima possibile E facciamo più di quello che dovremmo Perché per adesso stiamo facendo poco 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 Allora seminare abbiamo seminato Raccolto abbiamo raccolto Tacco il peso Preso si Allora la seminatrice No la seminatrice L'imballatrice Dove è? Mi sembra di vederla lì Ok Allora Non mi sembra di aver copiato il percorso Dov'è? Perdonemo Però io qua ho visto una cosa Campo 8 Che c***o ci fai tu al campo 8? Il parcheggio al campo 8 Boh Cosa ci fai? Questo è il campo 8 Se io Gli avevo assegnato il parcheggio Park Park Biogas No park qui Non era questo No è quello È campo 8 Strano Vabbè Allora parcheggio Qui Oh Andiamo qua E poi vediamo Dai Allora Come si è messi qua? Ma quello dove sta andando di nuovo? Mannaggia Ah ok Questo carica Questo sto lavorando Nella speranza che non gli diamo fastidio Ma più avanti questo Ok Allora dovevo Volevo copiare Stupor Do c***o Qui Volevo copiare questo Campo 20 Ok Ok No Non però 70.000 Ehi Com'era Perché non mi cambia 150 Così avvolge le balle Perché i 180 Non li avvolge E Altrimenti Io non ho fruzione Perché dobbiamo avvolgere le balle Perché la missione consiste in questo Vediamo un po' Se abbiamo qualcosa Da vendere Così che facciamo qualche soldino Tranne che il biogas Di verde Bello Fertilizzante Linguido No Non abbiamo niente da vendere Per adesso Bene Allora da vendere Non c'è più niente Ok Una cosa che volevo vedere È Dopo qualche Produzione Vediamo se abbiamo ancora Dei grandissimi debiti Sì 600.000 Direi che Restituiamo Un centinaio Siamo a 500 tondi Sì 500 tondi Ok Iniziamo a restituire Un po' di soldi Così che Subito Siamo a posto Perché Abbiamo comprato Un altro campo E quello Devo vedere Come è messo Con fertilizzante E Allora Il 2 E l'1 Vanno sia Fertilizzati Che Perché Questi due Lavo campi Non hanno Non abbiamo I cosi Eppure Dovrei averli Strana Mi mancano I rilevamenti Di questi Tre campi Addirittura Perché Mi mancano I rilevamenti Di questi Tre campi Vabbè Direi che Ragazzi Facciamo una cosa Allora A 0 Mappa Del raccolto Sul 4 Che Significa Molto strano Sto cosa qua Perché Così Eppure Dovrei Averli I dati Non ce li ho A 0 Mappa Mostro Ripristina Ok Se io faccio A 0 Ma strano Sto cosa qua Allora facciamo una cosa Andiamo qui Non vorrei che Con l'aggiornamento Si è Si è sballato qualcosa Ragazzi Vediamo un po' E però qua Me lo da Perché lì Non me lo da Dopo O almeno Chi è Aspetta Oh ragazzi Non lo so Perché non me lo da Strano Comunque Che non me lo da Vabbè Allora Questo si è parcheggiato Sì Benissimo Allora Quello si è parcheggiato Ok Missione Vediamo come si è messi Così che almeno Ok Allora Altre missione Da fare Di Diserbatura 8000 Fertilizzante Potrei usare un po' Di fertilizzante Per andare A fertilizzare Il campo 24 Tanto c'ho Quello lì Che non sarebbe Neanche male Poi Avvolgi ballo Avvolgi ballo No Facciamo sta bella missione Qua di fertilizzante Sul campo 24 Accetto Ok E mi prendo Il tractor lì Che Secondo me Dovrebbe Quasi aver finito No Non tu Neanche tu Cioè tu Allora Vediamo quanto Digestato Abbiamo ancora Dentro Al biogas No Non ne abbiamo più Perfetto Cioè 60.000 Aspetta Vediamo quanto Ne ho qua Ne ho 80.000 No Va bene Allora Quello mi basta Per finire il campo lì Mi basta Adesso io mi prendo Questo trattorino qui Mi attacco Davanti Tutta la roba Per andare A fertilizzare E nella prossima puntata Andremo a A fertilizzare Il campo Numero Che non me lo ricordo più Andremo a fertilizzare Il campo 24 Ragazzi Allora Cosa ho fatto qui 900.000 Ah no no Pensavo che Eh non era male 900.000 Per fertilizzare un campo Non sarebbe saluto male Ma no Lui vuole Olio di colza Che noi non abbiamo Ragazzi allora Appuntamento Al prossimo video Sempre qui Sulla Morgon Un salutone Ciao 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 Grazie a tutti.